Ed eccomi qui, per oggi farò l'unboxing di Fabrica Ongia, il mio primo unboxing. Allora, ho ordinato questo pacco lunedì scorso, lunedì sera scorso. Guardate, non l'ho ancora aperto, quindi in una settimana mi è arrivato. Ecco qua, adesso lo apro perché davvero non l'ho mai aperto, adesso li tolgo la pellicola. E qua c'è i dettagli della spedizione. Apriamo tutto qui. Bene. Fabrica Magia, l'ho comprata su Fabrica Magia, è un buon sito. La spedizione è appunto una settimana, quindi è abbastanza veloce. Anche se ci sono siti che la spediscono più velocemente, però è davvero molto molto fornita e anche i prezzi sono ottimi. Allora, adesso io intanto spacchetto, vi chiamo quando ho finito, riprendo il video quando ho finito qua. Allora, l'ho aperto e adesso vi faccio vedere cosa ho acquistato. Ho acquistato un Telly O fanback rosso e siccome volevo provare tutti i due dorsi, ho preso anche un Telly O blu, però circle back. Volevo vedere, volevo prendere tutti i due dorsi, ecco qua, i due dorsi fanback e circle back. Quindi Telly O standard. E poi un fantastico Wrath Deck by Shin Lim. Edizione limitata che quando saranno, non verrà più ristampato, quindi quando si saranno esaurite le copie, non verrà mai più ristampato. Quindi questi tre mazzi. Chiedetemi le recensioni di quelli che volete, mi raccomando, io ve le farò ben volentieri. Quindi, volevo solo fare questo, volevo farvi vedere cosa ho acquistato. E per oggi è tutto, ciao a tutti. Allora, spendo giusto ancora due parole sul sito su cui l'ho comprato. Questo qui che vedete qui è appunto il sito ufficiale di Fabrica Magia. www.fabricamagia.com Bisogna registrarsi e davvero è un ottimo sito, è molto fornito, ci sono qualsiasi tipo di mazzo che voi cerchiate, si trova. Quindi, anche il Wrath Deck appunto, quello che ho comprato io. Mi raccomando, se volete la recensione chiedetemelo, io ve lo faccio ben volentieri. Ecco qui, c'è, è anche a buon prezzo, quindi 11,25 euro. E anche dei miei prezzi sull'altra carta, Bicycle, quelli O, è abbastanza fornito. Anche le Prime, ecco qui, Prime, andiamo a vedere. Le Prime, perfetto. È molto fornito. Bene, quindi, se avete da chiedermi qualche recensione, chiedetemelo pure. Io vi saluto. C'è anche, anzi, per finire, è molto facile anche seguire i propri ordini. Adesso faccio l'accesso. Ecco. Se per esempio andiamo a vedere il nostro account, ecco. Abbiamo quest'ordine, se lo andiamo su Va, vedi, ci manderà sul dettaglio, quello che abbiamo comprato. E si può controllare la spedizione, ti mandi direttamente sul sito dell'SDA. Quindi si può anche seguire la spedizione. Bene, io spero di aver fatto piacere di provare questa... Paolo, allora, io uso il masco.